Aiutare i giovani africani a crearsi un futuro, perché non siano costretti a emigrare e possano sostenere lo sviluppo dei propri paesi. Questo è il cuore dell'African Skills Development Program dell'azienda italiana De Lorenzo, da decenni leader in Africa nella fornitura di apparecchiature elettroniche per i centi di formazione professionale. De Lorenzo, sì, ormai sono tanti gli anni della presenza in Africa, siamo presenti da oltre 40 anni. L'Africa per noi ormai è diventato un continente dove investiamo la maggior parte del nostro tempo e come dicevo siamo portatori di un messaggio, di un sharing di tecnologie. Andiamo a creare know-how locale andando a formare la fascia di ragazzi dai 14 anni in su, per cui da un livello medio fino a un livello universitario e politecnico, dedicato così a far formare i giovani in previsione anche di tutti gli obiettivi 20 e 30 che la maggior parte dei paesi africani ha e formiamo tecnici specializzati dall'elettronica all'elettricità, all'automazione all'elettrotecnica. Se li aiutiamo a crearsi un futuro sicuramente potranno avere un futuro e una vita più agiata senza dover essenzialmente migrare, potendo reinvestire nel paese che gli ha dato già l'opportunità di studiare.